Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Per prima cosa voglio salutare e ringraziare MC, nuovo abbonato, alle mie video lezioni. Si è appena concluso il Norway Chess 2022 con la vittoria di Karsen davanti a Mamedi Arof e dal mitico Anand, ma io voglio tornare indietro ad una partita dell'ottavo turno, l'Armageddon giocato dallo stesso Karsen di bianco contro il francese Vachela Grav con i pezzi neri. E' stata, secondo me, una partita stupenda nella quale il francese ha giocato la più bella difesa Grunfeld degli ultimi anni. Partiamo! Karsen di bianco apre con D4, ricordiamoci nell'Armageddon 10 minuti per il bianco, solo 7 per il nero, senza incremento fino alla quarantesima mossa. Quindi anche il tempo gioca la sua parte, però il nero, come sappiamo, nell'Armageddon vince anche pattando. Il francese risponde con cavallo in F6, C4 G6, quindi il nero può entrare o nell'Indiana di Re o nella Grunfeld, cavallo in C3, arriva la spinta centrale di D5 e siamo nella Grunfeld. C per D5, continuazione principale, il cavallo ricattura, il bianco conquista il centro con tempo perché attacca il cavallo. Le due continuazioni principali sono la prima, il cambio dei cavalli in C3 oppure il cavallo che torna indietro in B6. Ma Vashila Grav segue la linea principale, cavallo per cavallo in C3, il pedone C ricattura, si forma la classica struttura pedonale centrale della Grunfeld, il nero completa il fianchetto con alfero in G7. inizia a mettere pressione sulla casa che conosciamo, la casa centrale D4. Come procede Karzen? Invece di giocare alfiere in C4 o da altre linee principali, gioca un'altra linea interessantissima, alfiere in B5 con scacco. Come mai interessante? Perché la miglior risposta del nero è C6, che quindi scaccia l'alfiere, ma vedete che non c'è più la casa C6 per il cavallo per continuare ad attaccare questa casa centrale D4. Ora, il francese non gioca a Rocco Corto, che è la continuazione principale, ma gioca, secondo me, l'interessantissima, B5. B5 arriva con tempo, l'alfiere torna indietro in B3, con A5 il nero si espande subito sull'ato di donna. Allora Karzen continua con lo sviluppo, cavallo in F3, a Rocco Corto per il nero, a Rocco Corto anche per il bianco. Arriva pure A4. L'alfiere è costretto a tornare indietro in C2, mai giocata, ma interessantissima, cavallo in A6, perché ci sono già poche partite in database con questa posizione. Mai giocata, ma interessantissima, cavallo in A6 per poi spingere in C5, ottima anche la spinta, subito in C5, che libera oltretutto la casa C6 per il cavallo. Allora, qui che succede? Torre in B1, attacca il pedone lasciato libero da questa spinta in C5, è l'idea migliore, come l'idea migliore è quella di continuare con l'attacco al centro, cavallo in C6, lasciando il pedone in presa, un pedone che saggiamente Karsen non catturerà. Andiamo a vedere che succede. Se torre per B5, e poi con l'idea, attenzione, ad attaccarlo perché l'infilata non c'è, perché poi si prende un secondo pedone e si attacca il cavallo, allora bisogna giocare C per D4, il cavallo ricattura, cavallo per cavallo, il pedone ricattura, l'infilata c'è, come se ne esce sempre da queste brutte situazioni? Con gli scacchi, che non ci sono, con le minacce di matto, che non ci sono, il terzo step è attaccare la donna. Infatti se ne esce con torre in D5, donna in B6, e ma qui il nero ha completamente equalizzato e addirittura ha preso in mano l'iniziativa perché la torre si deve spostare e arriverà al fiare in C4, che cattura pericolosamente il pedone in A2. Allora giustamente Karsen non si fa tentare da questo pedone avvelenato e gioca in C5, chiudendo anche la diagonale principale dell'alfiere. Era stata giocata di C5 in questa posizione, questa è l'ottima novità di Karsen che rende la partita originale. Allora torre in B8 a proteggere il pedone, attenzione che se qui si gioca il cambio, si indebolisce il centro, arriva donna in C7 ed è un disastro, tre attaccanti contro solo un difensore. Allora alfiare in E4 attacca il cavallo sospeso, bella idea difensiva di Vashila Grav, difende il cavallo inchiodando l'attaccante sulla torre. E allora alfiare per alfiare, il pedone ricattura, si è creato un danno all'arrocco. Allora vediamo Karsen come va avanti. Lui attaccherà proprio da questa parte, anche perché da questa è un casino. Quindi al limite il bianco dovrà puntare al centro e al lato di Re. Allora donna in D3 attacca un po' tutto, donna in D7 protegge il pedone. Ma attenzione, attenzione alle protezioni a raggi X, perché questa donna a raggi X protegge anche il pedone in B5, tant'è che non si può catturare, se no arriva semplicemente cavallo in E5, che attacca la donna e quindi si vince la torre. Allora è tutto protetto, torre in D1. Torre in F che va in D8, inchioda il pedone sulla donna, alfiare in F4 di Karsen completa lo sviluppo, C per D4, C per D4, E6. E6 proteggendo il pedone F5 libera la donna dal compito difensivo, perché noi sappiamo che la difesa migliore, come si usa a dire negli scacchi, è quella più economica. Quella più economica naturalmente è quella di pedone. Allora alfiare in G5 attacca la torre, la torre si porta sulla colonna aperta, donna in E3. B4 è sicuramente giocabile, ma un'altra idea che c'è sempre negli scacchi è quella di migliorare il pezzo peggiore. Qual è il pezzo peggiore? In questo momento il cavallo, fa schifetto anche l'alfiere camposcuro, ma l'alfiere camposcuro è troppo importante nella protezione del re, vedete che il cavallo o va sul bordo, ma quindi non ha case offensive, e allora giustamente va ce la grata, riposizionerà il cavallo su una bellissima casa centrale, questa casa D5. Allora alfiare in F6 cosa vuol fare Karsen? Vuol dare matto, H6 impedisce alla donna di arrivare in G5, donna in F4 per andare in G3. E allora bisogna chiudere, è stato intelligente Karsen, non gli ha fatto mettere il cavallo al centro, allora bisogna chiudere la colonna G, ma Karsen ci piazza la donna, allora la scelagrave giustamente toglie il re da qualsiasi tipo di inchiodatura, perché attenzione che H4 e H5 possono anche arrivare. E invece Karsen spinge al centro con D5, e per D5 torre in B4. Il bianco vuole il raddoppio per attaccare il pedone isolato, ma Vashila Grav non glielo fa fare. Torre per torre, questo pedone non può catturare perché è inchiodato sulla donna sospesa, si ricattura col pedone B. E allora arriva E6. E6 è una mossa interessantissima, giocata da Karsen, e ricordiamoci che sono già state giocate 28 mosse, questa è la mossa 29, quindi il tempo inizia a scarseggiare, attacca la donna, di scoperta attacca anche la torre. Ora qui bisogna decidere che cosa fare, perché Vashila Grav giocherà un'idea buona, non la migliore, lascia la torre in presa, cattura il pedone, e catturerà naturalmente anche l'alfiere, Karsen gli prende la torre, alfiere per alfiere, ma qui è finito l'attacco sul lato di Re. Ritorniamo indietro, perché donna in C8 che protegge la torre, è sicuramente migliore. Dopo alfiere per alfiere, attenzione prima di ricatturare, bisogna giocare F4 di intermedia, che porta la donna in G4, ed auto inchioda il pedone, Re per G7, cavallo in E5, non si può giocare, perché arriva la cattura di donna, che porta alla semplificazione, guardate quanti pedoni ha in più il nero, e allora dopo la cattura bisognerà giocare donna in D4, ma arriva C3, donna in F5, torre in B7, e il nero sta sicuramente vincendo la partita. sta vincendo la partita, perché sta per arrivare C2, che costringe il cavallo a catturare, e allora il pedone cattura, protetto anche dalla donna, la donna si dovrà spostare, arriva donna in C4, e il nero sta dominando questa posizione. Ritorniamo a noi, e invece come abbiamo detto, qui c'è uno squilibrio di materiale, arriva torre in E1, donna sotto attacco, però che cosa fa? Si piazza intelligentemente, non solo dietro i pedoni passati, ma a controllare, a difendere la settima traversa. Allora, donna in B6, attacca l'alfiere, re in G7 lo protegge, G3. G3 giocata da Carlsen alla mossa 33, è un errore, un gravissimo errore, che il francese dovrebbe riuscire a sfruttare, ma il problema dell'armageddon del nero, come è sottolineato spesso e giustamente, anche da molti di voi nei commenti, è il tempo. Meno di due minuti sull'orologio per Vashila Grav, quattro minuti su quello di Carlsen, e noi siamo arrivati al nostro quizone. Cosa giochereste al posto del nero? Mettete pure in pausa, è da voi la parola. Ritorniamo a noi, D4, è una mossa fortissima, perché la spinta dei pedoni sarà inarrestabile. Ora ci sono due idee che il computer suggerisce per il bianco, andiamo a vedere che succede dopo donna in A6, dopo donna in A6 la centralizzazione della donna è micidiale, perché arriva con tempo, vedete questa G3 ha proprio indebolito il cavallo, che deve tornare indietro, C3 arriva con tempo, cavallo in C4, D3, i pedoni non si fermeranno più. Ritorniamo a questa D4, l'altra idea è giocare torre in D1, ma qui è tutto protetto, oltretutto il pedone avanza in D3, anzi scusate, non era protetto, c'erano i tre attacchi, ma il pedone avanza in D3, di nuovo donna in A6, di nuovo donna in D5. Solito problema, cavallo in D2, cavallo in E5, sta arrivando C3, per il computer è meno 10, quindi sicuramente il nero rimarrà come una donna di vantaggio. Ritorniamo a noi, invece un'altra idea che viene a base da grave, quella di indebolire il lato di re di Carlsen, gioca F4, ma non è una grandissima idea, donna in C5, F per G3, il pedone A caricatura. Cavallo in F4, anche se è in presa, lui che cosa vuol fare? Vuol giocare dopo lo scacco che si riprende il pezzo, allora donna in E3 a proteggere il cavallo, cavallo è rimasto sotto attacco, cavallo in D3, su un ottimo avamposto. Allora torre in B1, di nuovo la spinta del pedone D4 è fortissima, e invece arriva donna in E6. Torre in B7, guardate che cosa fa, qui donna per donna vince la donna, perché il pedone è inchiodato, questa idea di Carlsen costringe il nero a cambiare le donne. Donna per donna, il pedone ricattura in E3, e Carlsen magicamente si ritrova in un finale equilibrato e molto complesso, ma con 3 minuti sull'orologio contro 1. Vashila Grav continua a giocare benissimo, gioca a C3, torre in C7, dietro il pedone passato, ma il pedone passato è protetto, arriva cavallo in B4. Cavallo in E1, Alfieri in E5, attacca la torre, attacca il pedone, torre in C8, Vashila Grav ha vinto un pedone. Attenzione, perché si minaccia il cavallo, re in F1, arriva l'errore del francese. Qui bisogna catturare, oppure bisognerebbe catturare il pedone in A2, e invece guardate, la cattura immediata del cavallo è un errore, perché avvicina il re con la ricattura proprio alla zona calda. Adesso sì che il nero cattura il pedone, ma il re è arrivato sul lato di donna, re in D1, arriva a 3, torre in B8. H5, ora è vero che anche questo è un pedone passato e oltretutto lontano, ma è lentissimo, e allora forse bisognava migliorare la posizione del re. Re in C2, attacca il pedone, arriva a H4. Torre in B1, re in F6, re in B3. Attacca il cavallo, il cavallo sembra spacciato, ma qui si può ancora giocare C2, e invece il cavallo in B4 senza più tempo sull'orologio è l'errore decisivo, perché il bianco rimane, sì, con un pedone solo, ma con la torre, il re cattura il cavallo in B4, arriva a 2. Torre in A1 a bloccare il pedone, C2, ma re in C3, e qui che succede? Succede che questo non può andare a donna, perché la torre cattura e blocca anche l'altro, allora l'unico controgioco è sul lato di re, H3, re cattura in C2, quindi libera la torre, re in G5. Re in D3, e alla mossa 54, il francese abbandona. Veramente un peccato, giochiamo qualche altra mossa, perché re in G4, intelligente, ma qui bisogna bloccarlo con re in E2, re in G3, torre in G1 con scacco, re in H2, guardate che succede, la protezione della torre, non solo protegge la torre, che tutto e tutto si libera, ma vedete, non fa più uscire il re dalla colonna laterale. E allora può arrivare anche F5, ma la torre intanto farà piazza pulita, D4 e per D4, F4, torre che cattura in E2, re in H1, torre in A1 con scacco, lo riporta in H2, arriva D5, il pedone, andrà a donna e naturalmente darà il matto. Un carse infortunato stavolta, tenace come al solito, ma fortunato, perché il francese poteva veramente vincere una partita stupenda. Che ne pensate? Intanto spero che vi sia piaciuta, non dimenticate il like, non dimenticate di iscrivervi al canale, e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video. A presto!